Bene, cari amici, buonasera. Stavolta mi sono organizzato, sperando che vada meglio quando si tratta di presentare un'immagine, un'opera d'arte. Naturalmente aspetto un minuto per far avviare un po' meglio la diretta. Stasera, come vedete, vi parlerò di un dipinto. Buonasera, Giuseppe Vella. Un dipinto di Piero della Francesca. Vi ho già dato l'immagine su Facebook, sul mio profilo. Buonasera, Marianna. Ecco, vorrei dire qualche volta, se mi capita di sbagliare qualcosa, perché chiaramente i quartini sono un po' improvvisati, vi chiedo veramente di correggermi. Ecco, lo faccio io quando magari capita di poter rivedere qualcuno di questi quartini. Ne ho rivisto uno, il più problematico, perché se vi ricordate ho avuto dei problemi con il collegamento. Ecco, nel quartino sul Beato Angelico ho chiamato pale sia quella di Cortona che quella del Convento di San Marco. Ecco, quella di Cortona è una tempera su tavola, quella del Convento di San Marco, come dico poi tra l'altro nel mio intervento, è invece un affresco. Stasera parliamo invece proprio, questo è sicuro, di un affresco. C'è Don Franco, quindi già sono più rassicurato. Giovanna, insomma, alcuni amici. Oh, Maurizio, il nostro artista, che piacere averti qua. Giustamente appena si parla di arte e qualche artista ha spunta sicuramente. Toti c'è pure, quindi insomma un gruppetto già ci siamo. Aspetto solo qualche secondo per far partire il quartino. Sono molto orgoglioso di presentare questo dipinto. Chi mi conosce sa che lo amo moltissimo. Già negli anni in cui ero rettore del seminario lo presentavo. Mi ha fatto piacere che Lidia ha postato proprio quest'immagine di lei accanto a questo dipinto. Che si trova attualmente, non so se ora l'hanno cambiato, ma quando l'ho visto io era ancora in una scuola elementare di Monterchi. E Lidia è andata a vederlo proprio perché era incuriosita da quella mia presentazione. Io ne sono veramente orgoglioso e so che stasera dovrebbe essere qui ad ascoltarci. Ecco, io parto allora con il quartino. Faccio partire il cronometro. Si tratta di Piero della Francesca. È nato a Borgo Sansepolcro. Sottolineo questo perché altrimenti non si capisce la pittura di Piero della Francesca. Borgo Sansepolcro si chiama così perché la sua origine è legata proprio ai luoghi santi e in particolare proprio al Santo Sepolcro. Secondo la leggenda due pellegrini di nome Arcano ed Egidio sarebbero venuti a fondare questo borgo appunto di Sansepolcro dove è nato Piero della Francesca. Piero della Francesca attraversa tutto il Quattrocento. La data di morte non si può dimenticare perché coincide con la scoperta dell'America. A volte io così memorizzo le date mettendole insieme. Che cosa determina nella pittura e nell'arte di Piero della Francesca il fatto di essere nato a Borgo Sansepolcro? Intanto sicuramente il suo legame con la Terra Santa, visto che i due fondatori del suo paese venivano proprio da lì. E se guardiamo la pittura di Piero della Francesca è quasi tutta legata al Santo Sepolcro. Intanto la famosa resurrezione del Palazzo dei Conservatori di Borgo Sansepolcro, famosissima, ma la flagellazione o la leggenda stessa della vera croce che si trova nella chiesa di San Francesco ad Arezzo o la stessa Madonna del Parto fa riferimento a che cosa? Alla casa di Loreto perché rappresenta la Madonna come Arca dell'Alleanza, Federis Arca e rimanda quindi alle litanie lauretane, quindi alla casa di Loreto che come sappiamo secondo la leggenda è la casa della Madonna che sarebbe volata da Nazareth fino a Loreto alla fine del Trecento, nel 1296. Ed è per questo che la Madonna di Loreto è patrona degli aviatori perché avrebbe fatto questo volo appunto dalla Terra Santa fino in Italia. Quindi sicuramente questo determina il legame con i soggetti anche della pittura di Piero della Francesca ma anche il fatto che Piero è un francescano. Come sappiamo i luoghi santi sono affidati da sempre alla custodia francescana. E potremmo dire che Piero è per la cultura artistica francescana quello che è il viato angelico e per la cultura artistica domenicana. Andiamo a vedere questo dipinto. È piccolino, lo guardatelo, diciamo così, dentro il quartino ma si vede questa donna sontuosa al centro di questo baldacchino che in realtà è una tenda con questi due angeli. Troviamo una tenda che ha due versi, poi lo vedremo meglio, una all'interno con questi riquadri, cuciture, chiamiamole così, di peli di capra, e poi invece all'esterno c'è questo bisso porpora con questi fiori di melograno. Poi inusuale è la posa della Vergine Maria che è come un'apparizione perché questi angeli aprono la tenda e appare lei, ecco così solenne, e con questo abito stupendo di un blu lapislazzolo che tra l'altro ai tempi per farlo costava tantissimo perché il lapislazzolo era un materiale costosissimo perché veniva praticamente dall'Oriente. E poi notiamo questi due angeli che sono perfettamente speculari. Perché? Perché Piero usava moltissimo i cartoni che poi riutilizzava. In questo caso questi due angeli sono dipinti uno da un lato e uno dall'altro semplicemente rivoltando il cartone da un lato e dall'altro. Ma anche i colori delle ali e delle vesti degli angeli, come vedete, sono speculari. C'abbiamo il rosa, diciamo così, amaranto, di uno le ali e l'altro l'abito, viceversa questo azzurro verde dell'ala di uno che corrisponde all'abito dell'altro. E così anche i calzari dell'uno riprendono le vesti dell'altro e viceversa i calzari dell'altro angelo. Come vedete, Piero della Francesca usa questi accorgimenti. In realtà poi questo ti attira molto lo sguardo, senza che te ne rendi conto. L'uso dei cartoni derivava a Piero della Francesca dal fatto anche di essere un pittore araldico. Inizia così un pittore di bandiere, per intenderci. In cui quindi i cartoni e i colori avevano un fondamento importante. Come in tutte le opere che dipingono la Madonna, la Madonna è totapulcra, quindi deve essere la donna più bella del suo tempo. In effetti questa modella che usa Piero della Francesca era una donna sicuramente bellissima. Lui la usa anche per altre madonne, la usa anche per la regina di Saba, nella leggenda della vera croce di Arezzo. Tutte donne quindi bellissime. E' naturalmente bella e alla moda. Maria è totapulcra, è tutta bella. Quindi questa donna ha l'acconciatura tipica del Quattrocento. L'ideale di bellezza era far vedere la fronte della donna. Quindi questi capelli rasati, praticamente che permettono di vedere tutto il volto della Vergine. E poi, ecco, se si va a guardare attentamente, io non lo posso fare in questo momento, la Madonna è strabica. Ecco perché l'ho chiamato... Lo strabismo, come sappiamo, era considerato un elemento di bellezza nella donna, addirittura attribuito a Venere, lo strabismo di Venere. Ma nel pittore ha anche un valore, diciamo così, artistico, perché una donna strabica, in realtà, se poi la guardi, ti attrae, perché non sai da dove guardarla e come guardarla. È come se lei comunque ti guardasse sempre. La datazione di questo affresco è del 1467 e ci fidiamo della mia fonte, in questo caso, che è quella anche di questo libro che vedete, un librone di Maurizio Calvesi. Il luogo è Monterchi, la storia della collocazione. Questo dipinto, questo affresco, nasce per l'abside di Santa Maria della Selva, poi, praticamente, per due secoli non se ne sa più niente, quando viene trasformata la chiesa in cappella del cimitero che è lì vicino, adiacente anche al convento dei Francescani, praticamente l'abside viene squadrata. Questo è un grosso danno per il dipinto, perché se ne perde la parte superiore. Nel 1910, ecco, si tenta di ricostruire questa tenda, ma, grazie a Dio, poi nel 1992 l'ultimo restauro conservativo ha tolto tutti gli elementi che erano stati aggiunti. Oggi il dipinto, l'affresco, si presenta così come lo vedete, è stato collocato in una teca bruttissima, bisogna dire, in questa scuola di Monterchi. Qual è, diciamo così, il tema iconografico che riprende Piero della Francesca? Sicuramente quello delle madonne del parto che già circolavano, quindi della Madonna incinta. Di solito queste madonne tenevano un libro in mano, qui invece di libro non si vede nulla. E poi, ecco, l'icona orientale, l'immagine orientale della cosiddetta platitera, ve ne ho parlato l'altra sera a proposito di Maria, che è la platitera tono-uranon, con lei che è più ampia dei cieli, e la platitera ha proprio un globo nel grembo dove si vede proprio quasi in trasparenza il bambino. Qui il bambino non si vede, però in un certo senso Maria è incinta, è incinta anche avanti nella gravidanza, tant'è che proprio in realtà il centro di tutto il dipinto è questa sfera che rappresenta proprio il suo grembo. Ma l'elemento della platitera, che quindi ha questo globo, diciamo così, sia al centro, è unita all'elemento dell'odigitria. Maria ha questa mano che indica il bambino. Nelle madonne odigitria il bambino c'è, qui il bambino non c'è perché lei è un'annunziata, è una madonna del parto, ma lo sta indicando, è dentro il suo grembo, il bambino. Quindi potremmo dire che è una madonna del parto, una platitera e anche una odigitria. A parte questo, c'è anche una costruzione perfettamente geometrica del dipinto. non ve lo posso dimostrare con delle... ma il dipinto è costruito tutto, che so, la tenda e un cilindro, poi sopra c'era il cono, tutti i rettangoli che vedete all'interno, ma poi i rapporti, diciamo così, tra la madonna e gli angeli sono dati da tantissimi triangoli. Ecco, se io vado a segnare questo punto, ecco, posso andare a questo angelo, al capo e poi viceversa all'altra ancora e risalire e costruire un triangolo, due triangoli, tre triangoli, quattro triangoli, proprio è tutto così. Lo stesso, la stessa forma della madonna è fatta da diverse figure geometriche, sicuramente, ecco, il cilindro. Questo è un tema caro a Piero della Francesca perché rappresenta un po' la chiesa, no? il politico della misericordia addirittura riprende la cupola di Brunelleschi per dire che Maria è la chiesa. Questa costruzione, diciamo così, per figure geometriche viene a Piero della Francesca dal fatto che lui è un neoplatonico matematico. Qui ci addentreremmo in discorsi molto complessi, ma non c'era solo il neoplatonismo filosofico di Marsilio Ficino, di Angelo Poliziano o di Pico della Mirandola che avrà a Firenze di Lorenzo del Magnifico e il suo centro, ma c'era anche un neoplatonismo più del centro Italia e che vedeva in Nicola di Krebs o Nicolò Cusano il suo più grande cultore da un punto di vista filosofico. E Cusano e Piero della Francesca erano amici, tant'è che quando Cusano se ne andrà in missione a Costantinopoli, Piero della Francesca avrà una commissione da parte sua e se ne andrà a Roma proprio a lavorare per ordine di Nicolò Cusano. E questo un po' per capire. E capiamo anche perché Piero della Francesca si è piaciuto tantissimo a Cézanne in tempi moderni che costruisce il dipinto sulle figure geometriche e è piaciuto tantissimo ovviamente ai cubisti e a Picasso e come si è piaciuto anche molto all'astrattismo geometrico pensiamo per esempio a Mondrian. Andiamo perché il tempo ci rincorre ma questo è un dipinto troppo bello e troppo importante Quartino aiutami a non sforare troppo ma andiamo all'iconologia intanto è un'esplosione del blu voi pensate che le madonne siano state sempre dipinte di blu? no questa è una delle prime anzi così tutta blu perché il blu è un colore che in realtà faticherà ad affermarsi ma nel 400 si afferma e questa abbondanza di blu naturalmente in una Maria che rappresenta la Chiesa non può che rappresentare anche l'incarnazione e infatti il blu ci ripresenta il cielo il cielo il cielo squarciato lo vedete che c'è uno squarcio nel grembo di Maria questo cielo è squarciato c'è una citazione biblica Isaia che diceva oh se tu squarciassi il cielo e scendessi perché proprio attraverso questo squarcio sta scendendo il verbo nel grembo di Maria tra l'altro questo grembo questo squarcio nel grembo non è di un bianco qualunque è il bianco cosiddetto candidus che Piero della Francesca userà anche nel suo famoso battesimo che si trova oggi alla National Gallery per dipingere la colomba dello Spirito Santo e in quel dipinto bianco dello stesso colore c'è Cristo ma c'è anche quello che si fa battezzare che è il candidatus cioè con la veste candida quindi questo squarcio rappresenta lo Spirito Santo perché è quel bianco candidus della colomba dello Spirito Santo è una cosa meravigliosa che sta facendo Piero della Francesca ora noi vogliamo pensare per esempio che Lucio Fontana non abbia pensato a questo dipinto quando ha squarciato le sue tele e ha cercato quindi dal di là della tela dello squarcio è un significato metafisico spirituale oltremondano non può essere che non ci sia un collegamento con questo meraviglioso primo grande squarcio della pittura che è uno squarcio che dal grembo della Vergine Maria della Chiesa attinge fa entrare nel mistero del Verbo di Dio ma andiamo ora a vedere questa tenda che tenda misteriosa in realtà pensate è una doppia tenda perché nella Bibbia le tende erano due c'era la tenda e dentro poi la cosiddetta dimora erano due tende diverse una era fatta di peli di capra e l'altro era fatta invece di bisso e di porpora le citazioni sono di Esodo 21 se volete volete andarvela a vedere al versetto 7 si dice farai poi teri di pelo di capra per costituire la tenda al di sopra della dimora ne farai undici teri bene qui ci sono undici cuciture i critici e i critici d'arte li hanno contati della tenda diciamo così che copriva la dimora la dimora era invece fatta con bisso e porpora farai il velo della dimora di porpora viola di porpora rossa di scarlatto e di bisso ritortolo si farà con figure di cherubini siamo al versetto 31 del capitolo 21 dell'Esodo bene qui cosa fa Piero toglie i cherubini perché li mette dentro la tenda esterna la fa diventare interna e quindi abbiamo i peri di capra e il bisso e porpora invece lì con questo damasco meraviglioso li dipinge con questi fiori di melograno sapete che il fiore di melograno rappresenta proprio la chiesa la melograna è proprio il segno dell'unità della chiesa perché è un unico frutto che dentro ha tantissimi piccoli chicchi rossi che naturalmente ricordano per la chiesa lo spirito santo i cherubini invece vengono collocati all'interno ma se vengono collocati all'interno della dimora tenda cosa c'era all'interno della dimora tenda con i cherubini c'era l'arca dell'alleanza ecco che Maria è qui Madonna del Parto ma anche arca dell'alleanza Federis arca è lei che rappresenta l'arca dell'alleanza su cui all'interno della dimora si poggiava la gloria di Dio ma la gloria di Dio sapete come si chiamava Shekinah e sapete da quale verbo viene Shakan e sapete quale verbo greco viene da Shakan Schene e sapete da cosa diventa Schene nella lingua italiana Scena ma che cosa è la Scena se non il sipario la tenda ecco questa è una tenda un sipario ma è anche il luogo in cui si posa la Shekinah cioè la gloria di Dio Maria è l'arca dell'alleanza quella arca su cui si posava la gloria di Dio la gloria di Dio che si è manifestata al mondo ora è il verbo di Dio che si fa carne dentro di lei ma non è una cosa meravigliosa non è una cosa stupenda ma sono esagerato nel dire che questo è un capolavoro assoluto quindi le litanie lauretane Federis arca ecco realizzate qui e a questo punto a conclusione ho sforato un poco ma mi perdonate ma per concludere se Maria qui è Federis arca arca dell'alleanza ma è anche incinta come veniva dipinta anche Eva perché lei è la nuova madre dei viventi mentre Eva era la madre dei viventi ebbene questo parallelismo Federis arca Maria nuova Eva è tipico della teologia francescana che Piero della Francesca conosce benissimo e l'abbiamo detto prima perché lui è un francescano ma in quegli anni proprio in cui Piero dipingeva questa Madonna e sto finendo ma è la cosa per me più importante da dire alla fine ecco in quell'epoca c'era una grande disputa tra i Domenicani e i Francescani proprio a proposito dell'immacolato concepimento di Maria i Domenicani dicevano parlavano di santificatio virginis dicevano sì Maria è stata concepita con la macchia del peccato originale ma subito Dio l'ha santificata gliel'ha tolta questa macchia dicevano i Francescani non è possibile perché come Eva fu immacolata cioè senza macchia del peccato anche Maria deve esserlo quindi lei fu concepita sine macula cioè senza la macchia del peccato e parlano quindi di una concepzione virginis sine lab o sine macula cioè i Francescani erano immaculisti difendevano già in quel momento il dogma dell'immacolato concepimento di Maria bene la disputa fu risolta dal Papa che incaricò i Francescani di scrivere un'ufficiatura della Vergine Immacolata in cui si parla di Maria Arca di Mora della Nuova Alleanza e di Maria Nuova Eva questo Papa si chiama Sisto IV ed è Francesco dell'Arrovere sarebbe che era immacolista già fin dal 1448 quindi difendeva già il dogma così come lo presentavano i teologi francescani ma soprattutto nasceva la prima grande cappella dedicata all'immacolata che è la cappella Sistina perché Sisto IV da lui ecco Sisto IV fece fare questa cappella in Vaticano che è la cappella Sistina che un po' di anni dopo fu fatta affrescare lo sapete da chi? Da Michelangelo ecco se quella fu la prima cappella dedicata in qualche modo all'immacolato concepimento sostengo e finisco che questa è la prima immacolata della storia dell'arte di Piero della Francesca a Monterchi nel 1467 ecco dieci anni dopo soltanto nasceva la cappella Sistina e qualche decennio dopo veniva affrescata da Michelangelo l'arte e la storia fatta di questi intrecci di questi rimandi che la rendono così affascinante non so se sono riuscito a rendervi il fascino di questo dipinto probabilmente no ma io sono lo stesso contento di avervelo presentato vi auguro una buona serata il quartino finisce qui non vi dico la massima di François Delorece Foucault vi rimando a domani sera perché poi concludiamo la settimana con il quartino di domani sera arrivederci e grazie di questa attenzione che avete avuto stasera particolarmente difficile a domani e vediamo